Benvenuti all'oroscopo di oggi, 27 agosto. Scopri quali sorprese le stelle hanno in serbo per te in amore, lavoro e benessere. Lasciati guidare dagli astri per affrontare al meglio la giornata. Signoriete, sarà una giornata piuttosto difficile. Dovete utilizzare tutta la vostra resilienza per sopravvivere alla notte. Quando dovete prendere una decisione importante, è meglio pensare con calma. Non agite frettolosamente. Molte persone si affideranno a voi per essere guidati in esperienze lavorative impegnative. Regalerete degli istanti di passione alla persona amata con sempre più trasporto. La fortuna vi porterà dei buoni guadagni, soprattutto nella seconda metà della giornata. In amore. L'orgoglio può essere un ostacolo insormontabile se non viene gestito con saggezza. È il momento di abbandonare le vecchie ruggini e di aprirsi a nuove possibilità. Non permettete che il rancore vi impedisca di vivere a pieno le vostre emozioni. Ogni ostacolo può essere superato con un po' di ondacia e determinazione. L'amore oggi vi travolgerà con la freschezza di un sentimento appena nato. L'ottimismo che infonderete nella vostra relazione sarà contagioso. Colorando la vostra serata di tenerezza e dolcezza. Questo è il momento ideale per aprire il vostro cuore e confessare i vostri sentimenti a chi vi è caro. Segno Toro. Secondo l'oroscopo di Branco, gli astri vi spingeranno a fermarvi e a fare chiarezza prima di prendere decisioni che possano influenzare il vostro futuro. Ogni piccolo passo che fate in queste poche ore getta le basi per il vostro successo futuro. In amore ci saranno degli alti e bassi. Nelle amicizie la situazione complessiva sarà sempre più stabile. Il lavoro si presenterà con qualche piccolo grattacapo, ma niente che non si possa risolvere nell'immediato. Il mese sta per concludersi. E con esso arriva il momento di fare un bilancio. Riflessioni profonde su ciò che avete raggiunto e su ciò che ancora desiderate sono fondamentali per prepararsi al futuro. Non siate troppo severi con voi stessi. Ma piuttosto usate queste riflessioni come una bussola per il cammino che vi attende. Oggi potrebbe essere utile rivedere la comunicazione all'interno della vostra relazione amorosa. In famiglia si creeranno dei momenti di tranquillità e relax, che vi permetteranno di recuperare energie e migliorare i rapporti con i figli. Segno gemelli. Quando martedì la luna apparirà nel vostro segno, sarete infusi di positività ed entusiasmo. Usate la chiarezza di cui avete bisogno per fissare obiettivi nuovi, anche ambiziosi. Avete tutti gli strumenti necessari per realizzarli. Supererete molti ostacoli dettati dalle sfide che finora vi hanno tartassato nelle giornate lavorative. Con gli affetti non solo incentiverete il dialogo, ma potrete pure organizzare un viaggio. Oggi è il momento di guardare al futuro con una visione più ampia e consapevole. Il cammino che avete intrapreso è il risultato di scelte coraggiose e determinate. Ora è il tempo di mantenere questo slancio. In amore. Il coraggio di esporsi e di esprimere i propri sentimenti vi porterà nuove consapevolezze e avvicinerà ulteriormente la persona amata. Gli astri vi sorridono, donandovi stimoli piacevoli e un flusso costante di emozioni positive. Nulla sembra poter scalfire il vostro buon umore oggi. Sarete entusiasti delle decisioni condivise con il partner che rafforzeranno la vostra unione. Non mancheranno, inoltre, occasioni per organizzare momenti speciali con la famiglia, consolidando ulteriormente i legami affettivi. Segno cancro. Martedì emanerete armonia e fascino che gli altri non potranno fare a meno di notare. Il problema che vi ha tormentato negli ultimi giorni potrebbe risolversi prima di quanto pensiate. Non ignorate le informazioni che otterrete nelle prossime ore. Dovrete fare attenzione ai soldi, cercando di risparmiare il più possibile. Il lavoro potrebbe essere in calo. Gli affari non riusciranno a farvi guadagnare come vorreste. Il partner si dimostrerà alquanto distratto, così come voi. Spesso avete vissuto secondo il motto la miglior difesa è l'attacco. Ma oggi potrebbe essere il giorno di riconsiderare questa strategia. Un dialogo aperto e sincero potrebbe rivelarsi sorprendentemente efficace nel risolvere conflitti e malintesi. Lasciate spazio alla comprensione reciproca e vedrete i frutti di un approccio più morbido e costruttivo. Oggi sarete propensi a mettere da parte le questioni sentimentali per dedicarvi a voi stessi. Ridimensionare le vostre relazioni, specialmente con chi non si è rivelato un vero amico, vi aiuterà a ritrovare autostima e a focalizzarvi su ciò che conta davvero. Segno leone. Le stelle potrebbero portarvi una piccola fortuna inaspettata. Nei prossimi giorni dovrete affrontare nuove sfide. Se questo cielo vi sostiene, potrete ottenere la vittoria. Vi aspetta un autunno molto soddisfacente. Il senso di appagamento in amore potrebbe dar vita a proposte molto romantiche, che vi daranno anche una buona spinta per andare avanti con la vostra storia d'amore. La squadra di lavoro vi seguirà in ogni obiettivo professionale, anche quello più ambizioso. Ne uscirete e vincitori. Il cielo di oggi potrebbe presentare alcuni imprevisti nel vostro percorso professionale. Tuttavia, la chiave sarà la pazienza e la capacità di attendere il momento propizio. Evitate decisioni affrettate e lasciate che il tempo riveli le soluzioni migliori. Mantenere la calma e la serenità sarà il vostro asso nella manica. L'amore oggi vi riserva un rialzo inaspettato, con un miglioramento significativo nella vostra relazione. Una nuova complicità di coppia vi sorprenderà, portando serenità e armonia nella vostra vita familiare. Le decisioni che prenderete con il partner si rifletteranno positivamente anche sul vostro benessere mentale. Segno Vergine Dovrete superare una serie di sfide e di successi, come prevede l'oroscopo di Branco. La giornata inizierà sottotono, ma col tempo potrebbero verificarsi eventi che vi faranno sentire meglio. Buone notizie sono all'orizzonte. Fare affidamento soltanto sul vostro istinto nel mondo del lavoro sarà controproducente per i vostri affari. Con il partner attraverserete un periodo di apatia? Andrà meglio con gli altri membri della famiglia. Oggi vi sentite particolarmente energici e pronti ad affrontare qualsiasi sfida. Questa carica vi darà la forza di superare eventuali ostacoli e di cogliere al volo le opportunità che si presenteranno. Non permettete che errori passati vi trattengano. Ogni passo è un passo avanti verso il successo. Oggi vi sentirete più critici del solito, sia con voi stessi che con il partner. Tuttavia, potrete contare su alcune amicizie fidate per ritrovare il buon umore. Sebbene il romanticismo non sia al massimo, la passionalità potrebbe subire un calo. Nonostante ciò, la giornata sarà comunque positiva grazie alla vostra naturale inclinazione alla riflessione e alla serenità. Segno bilancia Martedì le stelle vi spingono a tenere sotto controllo i vostri sbalzi d'umore. Quando provate una battuta d'arresto frustrante, cercate di non sentirvi frustrati. In questo momento è importante ripristinare la salute psicofisica. Ci sarà un rialzo nelle prestazioni lavorative da parte del vostro segno zodiacale. L'assettività si risveglierà con un piccolo gesto, quasi insignificante, ma che per voi varrà moltissimo. Farete una conoscenza del tutto particolare. Se avete recentemente affrontato una separazione, oggi sarà il momento di concentrarvi su voi stessi. Pensare di voltare pagina rappresenta un atto di amore verso la vostra persona. Approfittate di questa opportunità per rigenerarvi e ritrovare l'equilibrio interiore. L'universo vi spinge ad allargare i vostri orizzonti e a esplorare nuovi territori, sia fisici che mentali. Uscire dalla vostra zona di comfort potrebbe portarvi verso scoperte sorprendenti e arricchienti. È il momento di mettersi in gioco, anche in contesti che possono sembrare lontani dal vostro modo di essere. Ogni esperienza è un'opportunità di crescita. Segno scorpione Noterete una sensazione di ottimismo che non avete avvertito negli ultimi giorni. A settembre i vostri sforzi daranno frutti inaspettati. Il successo che avete perseguito sarà un obiettivo altamente raggiungibile. Sembra che sarà un autunno ricco di soddisfazioni. Sarà tempo di separazioni e forse anche di solitudine. Questa giornata sarà l'ideale per staccare la spina ed evitare di pensare troppo alle questioni di carattere economico. In famiglia subentrerà qualche tensione di troppo. Le vostre energie amorose oggi raggiungeranno vette sorprendenti. Scoprirete un lato passionale di voi stessi che per lungo tempo è rimasto celato, emergendo con forza e vigore. Vi sentirete irresistibilmente attratti da qualcuno. E l'amore diventerà il fulcro delle vostre emozioni. L'amore richiede impegno e dimostrazioni di affetto costanti. Se davvero tenete a qualcuno, questo è il momento di farlo vedere senza mezzi termini. Un piccolo gesto, una parola dolce, possono fare la differenza e impedire che la distanza si insinui tra voi e la persona amata. Non sottovalutate il potere delle piccole cose. Segno Sagittario Martedì la luna sarà in opposizione, il che potrebbe causare alcuni piccoli problemi. Le stelle vi invitano a rimanere calmi e raccolti di fronte agli eventi inaspettati lungo il cammino. Fate in modo che le ore successive trascorrano senza alcuna discussione. Scoprirete un amore unico nel suo genere e senza alcuna macchia di gelosia. Sul lavoro potrete contare su una bella fortuna che non vi abbandonerà, anzi, vi darà gli strumenti giusti per far decollare la carriera. L'amore oggi potrebbe riservarvi dolci sorprese. Se in passato avete sentito il bisogno di attenzioni, ora potreste riceverle in abbondanza. Lasciatevi coccolare e godetevi i momenti di tenerezza e complicità con il partner. Questo è il momento di lasciarsi andare e di vivere a pieno le emozioni che vi avvolgono. Potreste scoprire delle piccole delusioni che vi terranno occupati mentalmente e per gran parte della giornata. Tuttavia, la famiglia sarà al centro dei vostri pensieri e un dialogo sincero potrebbe fare la differenza, aiutandovi a superare questi momenti di incertezza. Segno Capricorno Secondo l'oroscopo di Branco, martedì le stelle preparano per voi un'occasione allettante da non perdere. E questo è solo il primo assaggio di ciò che vi aspetta in autunno. Novità interessanti sul posto di lavoro per chi cerca nuova ispirazione per mettersi in gioco e fare qualcosa di nuovo. Riscoprirete un problema che purtroppo ritornerà a gala dopo tanto tempo. Questa giornata sul piano degli affetti non sarà delle migliori. In amore aumenterà l'incertezza nella vita di coppia. L'amore potrebbe rivelarsi una sfida oggi. Se vi sentite agitati o nervosi, potrebbe essere il momento di staccare la spina e ritrovare il vostro equilibrio interiore. Cercate di non impore la vostra volontà in modo eccessivo, specialmente in ambito relazionale. Un po' di distacco e riflessione vi aiuteranno a gestire meglio le situazioni che vi preoccupano. Oggi vi troverete al centro dell'attenzione, circondati dal calore e dall'affetto delle vostre amicizie più care. Al calar della sera, varcando la soia di casa, vi attenderanno momenti di dolcezza e passione con il partner, regalando al vostro cuore attimi indimenticabili. Anche sul fronte familiare potrebbero giungere buone notizie che arricchiranno ulteriormente la vostra giornata. Segno Acquario. Sarà una giornata vivace. Vi sentite in perfetta forma e pronti ad affrontare nuove sfide. Tuttavia, nel tempo potrebbero verificarsi piccoli inconvenienti. Se così fosse, non dovrete perdere la vostra passione iniziale. Romanticismo alle stelle. Ritroverete non solo un ottimo equilibrio dentro di voi, ma anche nel contesto di coppia. Sul lavoro avrete la possibilità di utilizzare un vostro asso nella manica e non sarà affatto difficile scalare la vetta. L'ondacia sarà la vostra migliore alleata, soprattutto nel contesto professionale. Non abbiate paura di prendere l'iniziativa e di proporre idee innovative. In amore, preparatevi a colpi di scena che potrebbero rivoluzionare la vostra relazione. Siate pronti a cogliere ogni opportunità con entusiasmo e determinazione. Un dialogo sincero con la persona amata potrebbe portare a decisioni difficili, come una separazione, se la verità è stata a lungo trascurata. È il momento di prendere in mano la vostra vita e di plasmarla secondo i vostri desideri, senza rimpianti, ma con determinazione e coraggio. Segno pesci. Dovete prepararvi per sfruttare tutte le opportunità che le stelle hanno in serbo per voi. Grazie alla vostra pazienza e passione, riceverete presto soddisfazioni inaspettate. Facendo il passo successivo, sarete un passo più vicino alla realizzazione dei vostri sogni. Arrivano incertezze molto importanti sul piano amoroso. Scoprirete una parte di voi che sarà ancora piuttosto restia a fidarsi del tutto della persona amata. Il lavoro vi assorbirà sempre più tempo, anche quello libero. Il momento è giunto per agire e dimostrare il vostro valore. Sia nel lavoro che nelle relazioni personali, la precisione e l'attenzione ai dettagli saranno fondamentali. Tuttavia, non dimenticate di dedicare tempo agli affetti. Un equilibrio tra vita professionale e personale sarà la chiave del vostro successo. Non lasciate che le parole vi trattengano. È ora di trasformare i vostri sogni in realtà. Dopo un periodo di difficoltà, oggi ritroverete il desiderio di amare e di lasciarvi andare alle emozioni. Sarete pronti a vivere nuove esperienze e a fare nuove amicizie, riscoprendo il piacere della condivisione e della complicità. Grazie. Grazie. Grazie.